a loro, a tutti loro, il sentimento di riconoscenza più grande che la massima espressione della volontà popolare il Parlamento debba avere. Noi ci inchiniamo davanti a queste storie e davanti al lavoro straordinariamente per bene di migliaia e migliaia di magistrati e di giudici. A chi però oggi volesse immaginare che questo inchino diventa una debolezza del potere legislativo davanti al potere giudiziario si abbia la forza e il coraggio di dire che dovrete contestarci per le nostre idee, per ciò che abbiamo fatto quando governavamo da soli, per ciò che stiamo facendo governando ora, contestateci per il Jobs Act e per la battaglia sulle tasse. Ma chi volesse contestarci o, peggio ancora, eliminarci per via giudiziaria sappia che dalla nostra parte abbiamo il coraggio e la voglia di dire che il diritto e la giustizia sono cosa diversa dal peloso giustizialismo e dalla connessione con certi strumenti di comunicazione e di stampa. Italia Viva riconosce il profondo rispetto per la magistratura, Italia Viva crede che il potere legislativo di questo Paese debba essere difeso innanzitutto da se stesso.